Buongiorno a tutti da FIF Porte Italiane, oggi con questo video tutorial vi mostriamo come regolare la soglia mobile per a spiffero nel vostro portone. In questo caso la soglia mobile è regolata male, infatti passano spifferi. Per regolare il movimento a chigliottina dobbiamo agire in questo modo. Ruotare in senso anti-orario la linea. In questo modo si avvicinerà al telaio sul quale andrà a battere in chiusura, attivando il movimento a chigliottina. E il gioco è fatto! Con la semplice regolazione di una vite anche oggi speriamo di esserti stati utili. Un saluto!